È il primo giorno di primavera e con oggi manca ufficialmente una settimana all'inizio del mondiale di Formula 1 2021 che vedrà un calendario di 23 gare a partire dal 28 marzo con il Gran Premio del Bahrain una stagione che prova a essere completa dopo quella dell'anno scorso che per via della pandemia è stata ridotta a meno gare rispetto al solito e peraltro con tante concentrazioni di due gare negli stessi posti. Il calendario è veramente molto vasto, si parte dal 28 marzo in Bahrain e si finisce il 12 dicembre ad Abu Dhabi per un campionato del mondo di Formula 1 che vedrà il motivo di interesse principale, ovvero i record di Hamilton e se c'è qualcuno che potrà battere il pilota inglese. Benvenuti dunque al primo Racing Podcast della Formula 1 2021 per il mio canale sportivo. Prima di iniziare con il merito del Racing Podcast che sarà veramente molto lungo perché tanti argomenti ce ne sono di cui parlare lascio come al solito le informazioni di riguardo, i social sono sempre acquistati in descrizione quindi secondo canale e pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati lascio anche in descrizione l'articolo come ho fatto ieri di Zetavision un articolo che parla della combiata nordica femminile che ha avuto grandissimi risultati ai mondiali di Scinordio che mi vede tra l'altro collaboratore dell'articolo scritto da Mike Saki ve lo lascio anche quello in sotto descrizione e leggetelo per avere un resoconto di questa nazionale che in un futuro si spera possa avere addirittura una medaglia olimpica nella disciplina invernale parliamo invece di discipline estive quindi di motori con il primo Racing Podcast sulla Formula 1 con ovviamente con tutti i riferimenti del caso i vari timestamp durante il video visto che parleremo di Formula 1 ma anche di Formula 2 e Formula 3 perché ci sono tante cose da dire e la prima cosa da dire è ovviamente il calendario come dicevo prima sono 23 le gare in questa stagione si parte il 28 di marzo quindi tra una settimana esatta al circuito internazionale del Bahrain che oramai è un circuito iconico perché è sempre uno dei primi della stagione quest'anno è addirittura il primo perché l'Australia è stata spostata al 21 novembre è il circuito famoso perché si corre in lottura da diverso tempo ed è anche il circuito che l'anno scorso vide il tragico incidente di Grosjean che per fortuna ha portato solo un grande spavento l'Italia è protagonista con due appuntamenti addirittura viene confermato il Gran Premio della mia regione ovvero l'Emilia-Romagna all'autodroma nazionale di Imola e viene ovviamente confermata anche Monza in questo caso si va al 12 di settembre le modifiche sono prevalentemente di carattere temporale perché magari il Gran Premio di Monza che di solito ai primi di settembre viene spostato a una settimana dopo perché ritorna il circuito di Zandvoord una pistina che onestamente a me non piace però la Formula 1 evidentemente ci correrà non mi aspetto in questo caso una gara leggendaria in Olanda vengono riammessi alcuni circuiti che erano stati protagonisti anche la stagione scorsa in situazioni degli originali come per esempio il circuito di Portimao che anche quest'anno ospiterà Moto Mondiale, Formula 1 e Superbike rientrano anche circuiti che io non vorrei mai vedere in un calendario di Formula 1 come per esempio il leggendario se non famigerato circuito di Monte Carlo e anche Singapore circuiti cittadini veramente tanto stretti che raramente offrono uno spettacolo allo spettatore per tutti gli altri appuntamenti vengono confermati quelli europei torna anche il circuito del Porricar che l'anno scorso non l'abbiamo visto nel compito del campionato mondiale ultima gara europea sarà quella di Sochi al Gran Premio di Russia per poi proseguire in un tour per gli altri continenti quindi Asia, America e Oceania con doppia tappa in Asia con Singapore e Suzuka doppia tappa nel continente americano con Stati Uniti e Messico e poi Brasile, Australia, Arabia Saudita e Yasmarina, Abu Dhabi Emirati Arabi dunque per chiudere il calendario e a proposito del circuito di Jeddah andiamone a parlare perché di recente è stato appunto svelato il layout di questo ennesimo circuito cittadino è un circuito che come potete vedere effettivamente offre degli spunti interessanti c'è una parte mista che di fatto va ad aprire il circuito alternate a parti molto veloci come doveva essere per esempio il circuito del Vietnam che anche quest'anno non c'è per una prima volta in assoluto come appunto l'Arabia Saudita che dopo aver ospitato i Gran Premi di Formula E va a ospitare anche la Formula 1 per la prima volta e sarà un appuntamento per il 5 di dicembre il penultimo prima della chiusura da Abu Dhabi a Santa Lucia di fatto il 12 di dicembre è un calendario che in origine doveva vedere ovviamente un inizio nel Medio Oriente, in Australia e in Asia ma Cina e Vietnam hanno ancora una volta abortito l'appuntamento con il Mondiale 2021 e appunto Imola e Portimao sono entrati in calendario si sono aggiunti appunto altri circuiti come Jeddah e quelli che dovevano essere originariamente nel calendario scorso Albert Park è stato tramutato da marzo a novembre ed è formato così il calendario di 23 gare per 20 piloti in lista di partenza per 10 scuderie e l'obiettivo è sempre uno solo quello di battere quest'uomo perché Lewis Hamilton come dicevo anche nel video di un mese fa ha ufficialmente rinnovato con la Mercedes il contratto prevalentemente è di un anno perché concretamente il pilota inglese ha questo anno 2021 garantito ha la modica cifra di 40 milioni Hamilton in realtà può esercitare anche un'ulteriore opzione per un rinnovo per un altro anno la Mercedes è obiettivamente ancora una volta la squadra da battere semplicemente per un motivo i regolamenti che dovevano cambiare nel 2021 per la Formula 1 andranno poi a mutarsi nel 2022 e quindi non mi aspetto niente di diverso che un dominio Mercedes ancora una volta o meglio la Mercedes è sicuramente la favorita ancora una volta per il titolo piloti e costruttori e dal loro punto di vista squadra che vince non si cambia perché Hamilton e Bottas sono oramai una coppia affiatata con il pilota inglese pluricampione del mondo palesemente primo pilota e Bottas che fa il barricchello della situazione quando c'era Schumacher in Ferrari quindi un'onesta seconda guida che ogni tanto vince e fa punti e qualche podio qua e là per comunque una più che onesta carriera l'obiettivo di interesse primario di questo mondiale è obiettivamente vedere il record di Hamilton perché Hamilton può arrivare tranquillamente a 100 pole e 100 vittorie l'ottavo titolo del mondo è possibile bisogna vedere però in un calendario di 23 gare come verranno a svilupparsi le prime 5-6 gare che sono già quelle indicativamente primarie per capire i valori in campo di questo campionato del mondo di certo Valtteri Bottas non è un pretendente al mondiale perché appunto come ho detto prima è una seconda guida che comunque fa il suo onesto lavoro non è mai stato in lotta per i mondiali nemmeno quando ha preso i titoli di vice campione del mondo per quanto platonico sia ed è appunto il pilota che serve alla Mercedes per andare a prendere punti per il campionato costruttori cosa che invece a Hamilton non gli viene chiesto nel senso che a Hamilton gli viene chiesto espressamente di vincere il titolo del mondo Bottas insomma già l'anno scorso non ha fatto una stagione meravigliosa seppur abbia raccolto quello che doveva raccogliere se c'erano dei problemi tecnici in casa Mercedes succedevano sempre a Valtteri Bottas in contumace ovviamente lui sai Hamilton che comunque anche lui ha avuto altri problemi di altro tipo vedi per esempio aver contratto il covid e lasciato spazio a Russell nella gara del Bahrain 1 Bottas si deve evidentemente confermare sui livelli che può ma in condizioni normali Bottas è un pilota che con questa Mercedes dovrebbe al massimo puntare alla seconda posizione come massimo risultato se invece ci sono altre scuderie che si dovrebbero inserire in corso di campionato è evidente che Bottas non potrà al massimo che difendere un podio nella classifica generale un podio dai concorrenti abbastanza guerriti in particolare la Red Bull che dai test che si sono fatti in Bahrain è effettivamente la macchina che sembra messa meglio in questo momento ora i test che hanno fatto sempre in Bahrain sono durati tre giorni e da una scala da 1 a 10 nella mia visione contano due non credo tanto ai problemi dichiarati dalla Mercedes di affidabilità credo che volutamente la Mercedes si sia nascosta per poi scatenarsi effettivamente in gara la Red Bull da quel poco che è emerso sembra essere una squadra assolutamente competitiva e sul pezzo fin da subito il che è strano perché la casa austriaca tendenzialmente le prime 5-6 gare fa abbastanza pietà poi si sveglia e poi nella seconda metà di stagione è effettivamente la macchina da battere è cambiato qualcosa perché a fianco all'olandese Max Verstappen che comunque è un pilota dove la Red Bull deve assolutamente puntare e giustamente continua a puntare è stato affiancato Sergio Perez in contumacia di Alexander Albon Verstappen è effettivamente un pilota molto talentuoso è l'unico che l'anno scorso è riuscito a spezzare il dominio della Mercedes con qualche vittoria un po' particolare come per esempio Silverstone oppure in altre gare con prestazioni assolutamente di piota di talento peccato che l'anno scorso la Red Bull peccasse di affidabilità ed è per questo che Verstappen è finito soltanto terzo in classifica del campionato scorso Verstappen però con una macchina di un certo livello e soprattutto molto affidabile è un pilota che può competere secondo me con il miglior Hamilton nella mia diciamo visione da appassionato e da tifoso McLaren mi aspetto un duello prevalentemente tra Verstappen e Hamilton nei sogni più perversi verosimilmente non sarà così spero che onestamente ci siano tutte le carte in regola finché già in Bahrain io venga assolutamente smentito Verstappen comunque è sicuramente un piantato da tenere d'occhio non solo per quest'anno ma soprattutto negli anni futuri sia dal 2022 quando cambiano i regolamenti sia per gli anni a venire in generale della Formula 1 perché è uno dei piloti giovani e talentosi che possono sicuramente vincere un titolo del mondo come dicevo prima ma il campione olandese è affiancato da Sergio Perez che ha fatto una stagione di grazia l'anno scorso è finito come piazzamento primo degli umani per usare un termine preso da altri sport correva con la loro macchina rosa ed è rimasto senza contratto perché la macchina rosa è diventata Stone Martin ha preso Vettel affiancandolo a Landstroll Perez ha dovuto lottare con Hülkenberg per ottenere il posto in Red Bull e l'ha ottenuto Perez è un pilota comunque di esperienza nonostante sia comunque abbastanza giovane perché comunque supera i 30 anni è un pilota che comunque può servire tantissimo alla causa Red Bull per avere due macchine competitive nella migliore delle ipotesi nelle prime 5 posizioni con costanza Perez ha coronato la prima vittoria lo scorso anno proprio nel Gran Premio del Sakhir quindi Bahrain 2 sulla versione corta al termine di quella gara pazza con il pasticcio incredibile in casa Mercedes e con quello di fatto si è meritato il sedile in casa Red Bull una Red Bull che con due viri piloti può secondo me attentare al dominio Mercedes di Lewis Hamilton qualora ovviamente le condizioni siano quelle giuste e non come vedo nella realtà ovvero una situazione simile agli ultimi anni con Hamilton che corre da solo ammazzando di fatto uno sport che per quanto lo riconosca come grande campione e io lo riconosco come grande campione effettivamente ha bisogno di più duelle ha bisogno di più gare combattute ha bisogno di più piloti che si contentano il titolo del mondo proseguendo nella nostra lista uno degli obiettivi interessanti è vedere la crescita di alcune scuderie in particolare la scuderia di cui probabilmente chi guarda questo video aspetta le notizie più interessanti ovvero la Ferrari una Ferrari che l'anno scorso ha fatto veramente pietà una Ferrari che io l'anno scorso ho ribattezzato ironicamente il carretto ma verosimilmente non andiamo molto lontano dalla realtà considerato che fin dall'inizio il progetto della Ferrari dell'anno scorso era stato cannato palesemente fin dalle prime battute le clerche all'epoca fette l'hanno fatto quello che potevano raccogliendo tre podi in tutto l'anno una stagione veramente disastrosa dal quale evidentemente si deve ripartire dai test si dice che comunque la Ferrari abbia migliorato il motore e ci voleva poco onestamente viste le disastrose protezioni dell'anno scorso è cambiato qualcosa anche qui perché Carlos Sainz va appunto in Ferrari al posto di Sebastian Vettel che appunto è approdato in Aston Martin ex Racing Point Sainz è un pilota comunque giovane viene da due anni interessanti in McLaren che comunque l'hanno reso un pilota da punti con costanza dovrebbe partire come secondo pilota palesemente in Ferrari Carlos Sainz può portare comunque dei punti alla squadra importanti una squadra che punta ovviamente sul predestinato Charles Leclerc che non è un predestinato parliamoci chiaro è un pilota di talento puro ma i predestinati si vedono fin dalle prime battute vedi per esempio i famosi Sainz, Schumacher, Hamilton Leclerc è comunque il talento più grande della Ferrari che deve assolutamente essere il go-to guy Leclerc è un pilota che assolutamente con una macchina inferiore ha fatto quello che poteva lo scorso anno portando punti anche a volte con qualche podio come risultato massimo con una macchina invece più performante abbiamo visto che già il pilota Monegasco alle prime battute è stato un pilota capace di vincere e fare podi insomma bisogna vedere la Ferrari cosa proporrà nella prima gara in Bahrain la crescita della Ferrari è diciamo richiesta da tutti anche da me che non tifo Ferrari perché evidentemente fa abbastanza tenerezza vedere una Ferrari che lotta con la Racing Point con l'allora Renault con la McLaren insomma scuderie che sulla carta dovrebbero essere inferiori la crescita deve esserci ed è normale che ci sia anche perché peggio dell'anno scorso non si può fare vediamo in questo anno di transizione del 2021 cosa porterà il campionato della Ferrari non mi aspetto in realtà un campionato di livello assoluto della Ferrari sulla carta l'obiettivo massimo sarebbe quella di essere la terza forza del campionato mondiale dietro Mercedes dietro Red Bull giocandosela appunto con le scuderie al loro livello al netto che appunto nei test il terzo miglior tempo combinato appunto in Bahrain è stato di Carlos Sainz ma come dicevo da una scala da una dieci i test contano due passiamo con le altre scuderie cioè quelle un po' di mezzo e parliamo della mia McLaren Mercedes che è tornata a essere McLaren Mercedes dopo due anni di Renault e McLaren Mercedes ha la coppia più simpatica del Circus perché è stato confermato Lando Norris uno dei piloti più talentuosi un altro di quei giovani che in futuro insieme a Rass la Verstappen e allo stesso Leclerc potranno giocarsi i titoli del mondo è stato affiancato un diciamo pilota esperto che è Daniel Ricciardo dopo due anni in Renault che comunque hanno dimostrato che il pilota è ancora presente nonostante sia veramente anni che sia in Formula 1 e dopo una stagione abbastanza orrenda quella del 2019 sempre con la Renault l'anno scorso Ricciardo ha fatto in modo che la Renault fosse comunque una delle rivelazioni dell'anno scorso anche con dei podi addirittura e quindi l'esperienza di Ricciardo insieme alla sua velocità unita alla diciamo velocità stessa e al talento di Lando Norris possono far sì che la McLaren possa crescere ancora di più il fatto che sia tornata motorizzata Mercedes e non più motorizzata Renault è un qualcosa di ulteriormente aggiunto perché Mercedes ha monopolizzato ovviamente i discorsi campionati e anche i team clienti fecero un sacco bene dunque io mi aspetto un salto di qualità della Mercedes che come la Ferrari onestamente ha l'obiettivo di essere la terza forza del campionato 2021 e con Norris Ricciardo secondo me è un obiettivo che può riuscire oggettivamente mi aspetto tante cose da questa McLaren di certo non di vincere il titolo del mondo mi aspetto di migliorare il piazzamento dello scorso anno e porre le basi per un futuro che possa un domani rivedere la McLaren trionfare nel mondiale di Formula 1 io ricordo che la McLaren e la Ferrari sono tra virgolette delle nobili decadute di questo sport per modo di dire perché ovviamente non vincono un titolo del mondo rispettivamente dal 2007 e dal 2008 la 2007 fu la stagione dove vinse Kimi Raikone nel 2008 invece vinse Louis Hamilton su McLaren Mercedes quindi col dubbio che ritorna in questa Formula 1 2021 proseguendo parliamo della new entry tra virgolette del modello 2021 ed è la Alpine Renault che appunto prende le redini della Renault e crea la macchina esteticamente più bella da vedere se andate a vedere la livrea della Alpine vi innamorerete subito secondo me esteticamente di questa macchina la Renault già all'epoca quando era giallo-nera fece delle macchine meravigliose esteticamente l'Alpine oltre che a rappresentare una nota marca di bibite gasate che non è la Coca-Cola in realtà esteticamente ha una livrea assolutamente bellissima piloti sono piloti interessanti di cui uno però mi dà un pochino di problemi e non è Estevano Conn pilota francese che corre per la scuderia francese un pilota assolutamente interessante che secondo me può ancora crescere in questa stagione ha dimostrato di valere anche lui la top 10 con Costanza l'anno scorso figlio anche della crescita di Renault e starà a Ocon continuare secondo me il percorso di crescita di questa neonata scuderia che vede adesso ai vertici Davide Brivio ex patron della Suzuki MotoGP che ha vinto lo scorso mondiale con Juan Mir Ocon è un pilota giovane non è al livello degli altri giovani terribili che ho elencato prima è un pelo sotto però è un pilota che appunto come dicevo può andare veramente a fornire tanti punti con costanza alla scuderia francese il problema con l'Alpine è secondo me quest'uomo perché per l'ennesima volta e per la terza volta in 40 anni Alonso torna in Renault e ancora una volta c'è l'affidamento a un pilota di nome di know-how per una scuderia che lo ha visto protagonista nel 2005-2006 quando era poco più che un ragazzino vince i ridotti del mondo contro Schumacher lo ha visto per una stagione dopo la McLaren nella stagione con Hamilton poi Alonso ha fatto quello che ha fatto in Ferrari perdendo un titolo mondiale contro una Red Bull imbattibile andandosene via dalla Ferrari sbattendo la porta andando in McLaren prendendo la paga con veramente chiunque fornendo anche uscite non proprio bellissime alla squadra come per esempio la famosa GP2 Engine Alonso è un personaggio che tendenzialmente a me viene su per una braga non è proprio simpaticissimo il pilota spagnolo rimane un pilota talentuoso e secondo me al netto della mia opinione personale sul Fernando Alonso è giusto riconoscere che lo spagnolo sia uno dei primi cinque piloti per talento della storia della Formula 1 moderna certo è un pilota molto divisivo non è un uomo squadra è un pilota molto accentratore e la scelta della Renault o Alpine chiamatela come volete di richiamare Fernando Alonso per la terza volta ha 40 anni suonati la dice lunga come la sformazione in realtà si è messa male ed è un peccato perché la Renault Alpine ha una marea di giovani nelle categorie minori e ne vedremo tanti nelle categorie minori che possono veramente fare la differenza peccato poi come minimo Alonso mi vince il titolo del mondo 2021 e mi zittisce e sarò contento di essere zittito però diciamo che le permesse non sono assolutamente delle più rose un'altra squadra esordiente qui per tutto e per tutto che deriva in realtà dall'acquisto di Lauren Stroll da parte di Racing Point è appunto la Aston Martin che dunque fa il suo esordio come scuderia ufficiale dopo aver sponsorizzato per anni la Red Bull e come dicevo prima la Aston Martin diciamo conferma ovviamente Lauren Stroll e non potrebbe essere altrimenti perché è il figlio del proprietario e cosa fai? Non fai correre il tuo figlio nella tua scuderia? Ovviamente no per quanto la Stroll non sia un pilota secondo me che ha diritto di cittadinanza in Formula 1 però lui è lì e i motivi appunto ci sono tutti al netto che sul bagnato Stroll ha dimostrato di essere un pilota di un certo livello sull'asciutto fa un po' più fatica evidentemente il canadese è un pilota monodimensionale affiancato alla Stroll c'è Sebastian Vettel che comunque è riuscito nonostante la stagione disastrosa del carretto Ferrari dell'anno scorso di calappiarsi un contratto come pilota esperto a questo punto è evidente che la carriera di Sebastian Vettel sia in fase sempre più calante non mi aspetto che sia il primo pilota di Aston Martin mi aspetto che possa dare una mano a Lance Stroll a fare più punti possibile certo è una coppia strana quella appunto dell'Aston Martin perché appunto c'è il figlio del proprietario che di fatto è lì soltanto perché ha i soldi e un ex campione del mondo che dopo che è andato via dalla Red Bull in quella stagione maledetta per lui dove le prese da Daniel Ricciardo non ha combinato praticamente niente come aspettative perché appunto in Ferrari Vettel era pompato come il novello Schumacher cosa che non ci arriva neanche lontanamente ha rischiato di combattere con Hamilton per due titoli del mondo ma il 2018 l'ha buttato via lui con le loro Eaukera in 2019 invece dopo Spa si spense la luce e la Mercedes fece quello che fece vincendo la stagione 2020 per Vettel non è stato un fattore un po' perché è stato scaricato dalla Ferrari un po' perché lui effettivamente non ne aveva più staremo a vedere cosa potrà combinare il pilota tedesco proseguiamo con le altre scuderie parliamo dell'Alfa Tauri che è una scuderia assolutamente da tenere d'occhio invece a differenza magari di Aston Martin dove in realtà non mi aspetto tantissime cose mi aspetto cose interessanti da Pierre Gasly perché l'anno scorso con l'Alfa Tauri è riuscito addirittura a vincere un gran premio ed è veramente tanta roba per un pilota che era in Red Bull dopo che è stato a sua volta in Alfa Tauri è stato poi il retrocesso all'iscapito di Albon che anche lui è finito nelle estreme retrovie della Red Bull e tornando indietro è riuscito a sviluppare una macchina sorprendente con comunque un talento interessante perché Gasly insomma si riesce a fare dei punti con costanza e a volte con Exploit di prime 5 posizioni coronandolo con dei sogni di vittoria e la vittoria è stata a Monza quindi di certo non un circuito diciamo scarso insomma vuol dire che l'ex campione di Formula 2 è effettivamente uno da tenere d'occhio così come da tenere d'occhio anche il rookie giapponese Yuki Tsunoda che è uno dei tre esordienti di questa stagione perché se tanto ho parlato di lui dopo i test del Bahrain perché pare abbia dimostrato una affidabilità molto interessante e un'adattabilità alla macchina diciamo fuori dal comune Tsunoda ha fatto veramente un percorso rapidissimo perché ha fatto un anno in Formula 3 un anno in Formula 2 l'anno scorso e poi è approdato direttamente in Formula 1 quindi effettivamente è un percorso assolutamente incredibile per un piatto comunque giovanissimo perché parliamo di un classe 2000 peraltro non è un caso appunto che ci sia un piatto giapponese perché Alfa Tauri è motorizzata Honda in quello che sarà l'ultimo anno di Honda in Formula 1 infatti dopo è stato già annunciato che al termine del 2021 Honda si ritenerà dal campionato Formula 1 come costruttore proseguendo la nostra lista andiamo avanti con l'Alfa Romeo e dunque andiamo in quelle che sono le parti diciamo di fondo classifica della scorsa stagione conferma per quanto riguarda l'Alfa Romeo sia di Kimi Raikkonen che anche lui a 42 anni sonati continua a correre per fare prestazioni comunque in linea con l'Alfa Romeo quindi disastrose ma non perché Raikkonen è scarso anzi è un pilota anche lui molto interessante però comunque un po' l'età un po' la macchina non competitiva regola da Raikkonen in fondo alla classifica e anche dell'Alfa ci si aspetta assolutamente una crescita che è correlata al motore Ferrari è confermato anche il nostro portabandiera Antonio Giovinazzi che comunque ha dimostrato una qualità l'anno scorso nello schifo dell'Alfa Romeo dell'anno scorso ovvero saper fare le partenze condannato spesso a partire in fondo Giovinazzi è riuscito spesso a rimontare posizioni raramente ha fatto punti ma appunto abbiamo già detto più volte l'Alfa Romeo l'anno scorso non era un fattore così come tutti i motorizzati Ferrari anche dall'Alfa Romeo ci si aspetta assolutamente una crescita interessante andiamo a parlare di un altro motorizzato Ferrari ovvero la Haas che effettivamente fa un qualcosa di molto particolare perché manda alla porta Grosjean che va a correre in Indycar e Kevin Magnussen che effettivamente non era più un pilota che poteva dare molto alla Formula 1 e sposa una linea giovane perché i piloti sono in particolare Mick Schumacher figlio di Michael e subito la stampa italiana è pronta a pompare il ragazzino tedesco che io lo ricordo è più un piazzato che un vincente ha vinto sì il campionato di Formula 2 lo scorso anno ma non è che ha vinto dominando scherzando gli avversari è un pilota che ha dimostrato di saper gestire le gare sicuramente sì ma non è un pilota che lo vedi e ti viene in mente Leclerc un pilota di talento puro Leclerc così come Russell era un pilota che dominava le categorie inferiore Mick Schumacher ha messo un pochino di tempo prima di carburare e vincere il titolo però ha vinto il campionato di Formula 1 l'anno scorso vincendo un paio di gare non di più il segno che appunto non è il talento puro ma è il lavoro e la costanza ed è un'altra caratteristica che ti può far stare in Formula 1 però da qui a paragonarlo a Schumacher è assolutamente un'eresia e non possono stare nella stessa frase certo che per i nostalgici di vedere un tedesco su una motorizzata Ferrari con la scritta MSC posso capire sia un colpo assolutamente positivo per tutti i tifosi sono curioso di vedere Mick Schumacher come appunto si approccerà alla Formula 1 la stagione della Haas sarà di apprendistato perché appunto è già stato detto dal team principal Gunther Steiner che la macchina non verrà sviluppata quindi non aspettiamoci grandi exploit da parte sia di Schumacher sia di Nikita Mazepin che è un altro pilota che viene dalla Formula 2 un pilota controverso già ancora prima che inizi il campionato di Formula 1 perché non solo dovrà correre senza la bandiera per vedere le note vicende della Russia e del doping di Stato ma prima del suo ingresso in Formula 1 sono saltati fuori un po' dei video compromettenti di Nikita Mazepin sono state già fatte tante controverse tante polemiche a riguardo in sostanza Mazepin c'è perché è colui che porta i soldi tanto è vero che Urakali è uno sponsor russo e appunto la bandiera russa va a campeggiare addirittura su tutta la livrea del team americano quindi insomma capite bene perché Mazepin sia effettivamente lì dei due vedo meglio Mick Schumacher perché comunque è più bravo di Mazepin ripeto la linea giovane della Haas sarà interessante forse per gli anni a venire in questo momento la Haas non sarà un fattore nel mondiale 2021 chiudiamo con un'altra macchina che noi tutti amiamo dopo il carretto Ferraghi la macchina rosa e tutte le altre la Williams la Carbonella che noi tutti amiamo ancora una volta dovrebbe recitare un ruolo di sparring partner quindi una situazione di fondo classifica anche qui viene confermata la squadra con Nikola Zaltif che comunque è lì che porta i soldi e l'obiettivo per lui sarà per sbaglio arrivare decimo quindi fornire un punto soltanto è confermato George Russell che dopo l'exploit parziale in Mercedes in Bahrain gara 2 torna in Williams ed è un pilota che ripeto va tenuto d'occhio se la Williams dovesse ancora una volta fare una piccola crescita magari Russell potrebbe fare un po' più di punti rispetto agli anni scorsi ma è evidentemente chiaro il percorso di Russell ovvero un pilota che andrà in Mercedes quando Hamilton si ritirerà e sarà probabilmente lui il go-to-guy della casa di Stoccarda quindi attenzione al pilota inglese anche se a fondo classifica queste dunque sono le mie opinioni riguardo i piloti di Formula 1 e ai miei valori in campo per il mondiale che partirà il 28 di marzo per questa categoria passiamo adesso invece alle altre categorie di contorno in particolare Formula 2 e Formula 3 perché c'è qualcosa da raccontare perché queste categorie vanno a cambiare il loro format un tempo Formula 2 e Formula 3 avevano di fatto lo stesso calendario se non per qualche gara in più per la Formula 2 da quest'anno in realtà Formula 2 e Formula 3 si alterneranno in appuntamenti distinti la Formula 2 avrà 8 gare in programma 8 eventi meglio Varei, Monte Carlo Baku, Silverstone Monza, Sochi Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti con addirittura 3 gare 2 sprint e una gara lunga che cosa cambia? cambia il format nel senso che appunto l'anno scorso erano due gare con una qualificazione al venerdì qui invece sono due gare sprint tutte al sabato e la gara lunga della domenica quindi viene cambiato appunto la logistica la qualificazione del venerdì sarà fondamentale per la gara di domenica per appunto la chiedita di partenza della gara lunga mentre per quanto riguarda la partenza di gara 1 del sabato mattina si prenderanno i primi 10 tempi della qualifica e verranno invertiti quindi il decimo della qualificazione partirà al palo nella prima competizione del sabato mattina e poi dopo chi arriverà al decimo al termine della gara 1 partirà al palo in gara 2 è un sistema un po' complicato però un po' per risparmiare i costi dovuti alla pandemia un po' per fornire più gare e anche più copertura televisiva con più eventi di contorno vengono divisi i calendari di Formula 2 e Formula 3 la Formula 2 è un campionato veramente molto interessante perché ci sono tanti piloti delle scuderie giovani appunto delle top team appunto di Formula 1 in particolare Ferrari Renault Williams hanno tanti piloti che schierano in questa categoria e li andiamo a elencare velocissimamente partendo dai primi che vediamo qui nell'elenco in particolare il Team Prema che è un altro team da tenere d'occhio il Team Prema sarà ancora una volta il favorito per vincere il titolo di Formula 2 e schiera due piloti assolutamente interessanti già un pilota che è Robert Schwarzman potrebbe essere già il favorito per vincere il campionato di Formula 2 era partito benissimo lo scorso anno poi pian piano si è spento e non ha vinto il mondiale che appunto è andato a Mick Schumacher in un duello diciamo tutto Ferrari Driver Academy tra Callum Milot che adesso fa il tester per la Ferrari e appunto Schumacher che in Formula 1 invece c'è arrivato Robert Schwarzman era il terzo della FDA ma non ha vinto il campionato del mondo Formula 2 e dunque viene riconfermato al fianco del campione regnante di categoria Formula 3 ovvero Oscar Piastri lui invece è un pilota dello Junior Team della Renault un pilota australiano anche lui un pilota di costanza un po' come Mick Schumacher non un pilota di talento ma attenzione all'australiano che comunque in due anni di Formula 2 secondo me potrà fare assolutamente bene il team Univirtuosi che comunque è un altro niente da tenere d'occhio conferma il pilota cinese Guanyo Zhou altro giovane della Renault e qui mi viene un po' la rabbia per il discorso che facevo prima su Fernando Alonso perché appunto sia Piastri sia Zhou sono piloti assolutamente di livello e potrebbero già fare apprende stato in Formula 1 invece gli viene preferito Fernando Alonso viene spostato dal team MP Motorsport invece il brasiliano Felipe Drugovic che è un pilota che comunque ha vinto tre gare l'anno scorso il team Carlin che invece è il team Junior della Red Bull di fatto conferma l'indiano Ihan Daruvala che rimane nel programma della Red Bull e assolda Dan Tictum che è un pilota invece Junior della Williams un pilota inglese molto talentuoso quanto molto fumantino il team Aite che è un team molto interessante perché qui per davvero parliamo di giovani della Red Bull in particolare dalla Formula 3 arriva il neozelandese Liam Lawson affiancato a Yuri Vips pilota Estone che l'anno scorso ha fatto qualche comparsata in Formula 2 facendo anche un podio segno che il pilota è appunto molto talentuoso e la Red Bull lo ha già messo appunto come dicevo sotto contratto il team Art uno dei team storici della Formula 2 conferma Christian Lungard giovane pilota danese del team Renault anche lui e esordisce invece nel team Art Grand Prix Théo Purscher pilota francese veramente talentuoso 17 anni per lui e subito in Formula 2 al fianco appunto di Lungard pilota danese molto molto promettente l'MP Motorsport ha annunciato al momento soltanto Lirim Zendeli pilota tedesco che viene dalla Formula 3 bisognerà capire nella prossima settimana chi sarà il suo compagno di squadra altro tedesco ma stavolta per il team Charles è David Beckman anche lui viene dalla Formula 3 a corso col team Trident viene confermato Guilherme Samaya che è un pilota di contorno e ha finito sempre nelle ultime posizioni l'anno scorso il team Dams assolda un altro junior della Williams ovvero Roy Nissen il pilota israeliano e affianca a lui Marcus Armstrong che è un altro pilota del team junior della Ferrari pilota neozelandese quindi avremo due neozelandesi in gara la Campus Racing prende Gianluca Petekoff che è un pilota molto interessante ha vinto una caterba di campionati minori in particolare viene dalla Formula Regional Championship che è di fatto una succursale della Formula Renault a fianco a lui c'è un veterano della categoria Formula 2 ovvero lo svizzero Ralph Bochung andiamo avanti con il team HWA Racelab che ha una coppia tutta italiana in particolare Matteo Nannini e Alessio Deleida c'è da parlare di Matteo Nannini perché è il primo pilota che si alternerà tra Formula 3 e Formula 2 con lo stesso team non ci sono al momento altri piloti che faranno così è una scelta molto particolare ma sensata appunto è considerato perché i campionati di Formula 3 e Formula 2 si alterneranno appunto nei vari weekend a fianco a Matteo Nannini c'è Alessio Deleida che dopo due stagioni in Formula 3 da pilota di rincalzo va in Formula 2 probabilmente per recitare lo stesso ruolo però comunque evidentemente è un pilota che porta soldi e dunque ci sta che una scuderia investa sul pilota romano che peraltro dovrebbe avere la metà classe 94 chiudiamo col team Trident che prende un pilota dalla Formula 3 ovvero Bent Vishkal dal team MP Motorsport e affianca un confermato Marino Sato pilota giapponese anche lui è un pilota di contorno per questa categoria questi sono i piloti di Formula 2 che si daranno battaglia in 8 weekend dunque per quanto riguarda la stagione 2021 passiamo alla Formula 3 con anche qui un calendario totalmente rivoluzionato sarà un campionato prevalentemente europeo con un'unica eccezione una scampagnata a Austin Texas a fine ottobre il format è lo stesso per la Formula 2 quindi due gare al sabato e una alla domenica qui non ci sono differenze in realtà di lunghezza di gara le tre gare avranno gli stessi giri cambia invece appunto come in Formula 2 il sistema della qualificazione quindi appunto ci sarà appunto la qualifica del venerdì per la gara della domenica mentre appunto gara 1 e gara 2 avranno le griglie di partenza invertite in base alle griglie della qualificazione passiamo invece ai piloti che sono protagonisti in Formula 3 ovviamente è una stagione che partirà più avanti in concomitanza col Gran Premio di Spagna quindi a maggio quindi ci sta che qualche scudiera non abbia annunciato i piloti in ogni caso ci possono già fare delle analisi e delle presentazioni per le squadre più importanti è ovvio che il campionato si giocherà tra le prime tre squadre con qualche magari ingresso della Hitek Grand Prix magari per qualche podio se si dovessero rispettare i parametri dell'anno scorso il duello sarà tutto italiano tra Prema e Trident Prema che schiera in particolare Dennis Hauger pilota norvegese che viene dal team Hitek HWA viene schierato Arthur Leclerc che è il fratello di Charles quindi attenzione anche al pilota Monegasco e il terzo pilota del team Prema è Olly Coldwell alla sua seconda stagione in Formula 3 per il pilota inglese il team Trident ingaggia lo junior della Red Bull Jack Duan che è il figlio del pilota di moto Mick lo affianca Clem Novalak che viene dal team Carlin sempre in Formula 3 e ultimo pilota è David Schumacher che è di fatto il cugino di Mick pilota molto meno talentuoso di Mick che comunque sta facendo esperienza la sua terza stagione in Formula 3 la seconda completa dopo una comparsata due anni fa il team Art dal team Prema ingaggia Frederick Vesti un pilota danese molto talentuoso che potrebbe essere uno dei papabili vincenti del titolo di Formula 3 di quest'anno insieme a lui c'è Alexander Smogliar e soprattutto un pilota di cui è giusto fare una menzione d'onore ovvero Juan Manuel Correa il pilota statunitense che fu protagonista di quel clamoroso incidente a Spa due anni fa dove perse la vita purtroppo Antoine Huber Correa ha dovuto di fatto ricorrere a tantissime operazioni ha rischiato anche lui la vita alla fine è tornato dopo aver combattuto tanto e sono veramente contento di vedere lo statunitense ancora una volta in pista nel campionato di Formula 3 campionato dove peraltro aveva dimostrato comunque di valere i punti con costanza il team Hitek schiera un altro statunitense invece ovvero Jack Crawford che è un membro del Red Bull Junior Team affiancato a Yamu a fianco a lui c'è Ayumu Iwasa che è un altro Junior Team della Red Bull ultimo pilota Roman Stanek pilota della Repubblica Ceca che viene dal team Chairuz Matteo Nannini ne abbiamo già parlato farà il campionato Formula 3 sempre col team HWA il Race Lab non avrà DeLedda come compagno di squadra ma avrà due piloti esordinti in questa categoria un altro danese ovvero Oliver Rasmussen e il messicano Rafael Villagomez il team MP Motorsport schiera il francese Victor Martins che è il pilota vincente della Formula Renault quindi un campione regnante di categoria assolutamente interessante quindi comunque non un pilota fermo a fianco a lui c'è Caio Collet un pilota brasiliano insieme all'olandese Timen Van der Helm all'esordio assoluto il team Campos deve annunciare ancora un pilota ne ha annunciati comunque due ovvero un altro italiano ovvero Lorenzo Colombo che è un altro pilota proveniente dalla Formula Renault viene schierato insieme a lui il belga Mauri Cordel anche lui viene da quel campionato dalla Formula Renault il team Carlin ha annunciato soltanto due piloti su tre annunciamo il pilota israeliano Ido Cohen dunque un altro israeliano oltre noi in history Cohen viene dalla Formula 4 italiana e a fianco a lui c'è Johnny Edgar altro membro del junior team della Red Bull il team Yenzer ha già la squadra completa con il pilota australiano Caelan Williams dunque confermato nel team Yenzer insieme a lui c'è Pierre-Louis Chauvet che ha fatto qualche comparsata lo scorso anno nel finale di stagione in Formula 3 e a fianco a lui c'è il romeno Philippe-Johan Urgan all'esordio assoluto ultimo pilota che fa da completamento all'elenco in attesa dei due annunci del team Chairo c'è Richard Dejerouz che è appunto un pilota francese proveniente dalle formule francesi locali questi dunque sono i resoconti compiti di tutte e tre le categorie che si andranno ad alternare alla Formula 1 che appunto come diceva avrà 23 gran premi l'obiettivo è sempre uno solo cercare di battere Lewis Hamilton ci saranno poi anche tanti eventi oltre alla Formula 2 e alla Formula 3 ovvero la W Series la Formula Femminile che per la prima volta affianca la Formula 1 e la confermata Paul Super Cup ci concentreremo comunque sui racing podcast sulla Formula 1 e su Formula 2 e Formula 3 con l'obiettivo di vedere un campionato combattuto l'obiettivo per Hamilton è ovviamente vincere l'ottavo titolo fare 100 vittorie e 100 pole l'obiettivo di Verstappen è sicuramente di dar fastidio a Hamilton per magari provare a vincere un titolo se non adesso nell'immediato futuro e per la Ferrari l'obiettivo è assolutamente risollevarsi con soprattutto il pilota di più talento della scuola di Maranello ovvero Charles Leclerc un racing podcast che ha adorato veramente tanto che vi ha dato tante informazioni ha fatto dunque la presentazione al Mondiale che verrà che partirà tra una settimana esatta il 28 di marzo in Bahrain fatemi sapere che cosa ne pensate il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo presto con il primo racing podcast per il Gran Premio del Bahrain e ci vediamo sempre settimana prossima per la presentazione del campionato della Major League Baseball 2021 2021 Grazie a tutti